Siamo dei numeri, il notaresco non scende in campo dal 22 novembre, vittoria larga contro l'Apriglia e il campo basso dal 25 ottobre. Sul big match può influire questo? Ma questo non lo so, sicuramente noi fortunatamente anche in merito dei ragazzi ci siamo sempre allenati con continuità perché siamo stati anche fortunati sotto questo punto di vista, ma molta bravura dei ragazzi. Loro hanno avuto dei problemi, ma hanno avuto anche modo e tempo di lavorare, quindi credo che sicuramente sarà un piccolo vantaggio, ma non credo che sarà un vantaggio determinante per i fini della partita. Si recupera la settima giornata, è davvero iniziato adesso il campionato, può essere davvero un big match? È una partita importante, è una partita bella da giocare, sicuramente sono due squadre che lotteranno per il primato fino alla fine, ce la curiamo per quanto riguarda noi. Siamo alla settima, mancano talmente tante partite, credo che sarà ancora troppo presto per diventare una partita importante, sicuramente è una partita importante a livello mentale, questo sì, perché chi farà risultato sicuramente a livello mentale d'aiuto, però noi andiamo tranquilli, ci andiamo a fare la nostra partita, sappiamo di incontrare la squadra più forte del campionato e cercheremo di fare una grande gara per portare a casa il risultato. Come ci arriva il notalesco? Bene, bene, perché la squadra si è allenata sempre bene, ha abbassato pochissimo la tensione, anzi quasi per niente, l'abbiamo dimostrata anche nel recupero che abbiamo fatto, ci manca il campo, ci manca la partita, ripartire con una partita così importante credo che sia ancora anche un piccolo vantaggio a livello mentale, perché c'è poco da preparare a livello mentale e quindi andremo a fare una partita e speriamo di fare una grande gara. A campo basso come lo possiamo definire? A campo basso è la squadra che è partita per vincere il campionato con dei grandi giocatori, è una squadra che ha cambiato pochissimo, lo stesso allenatore, quindi hanno il modo di giocare e il modo di pensare già ben consolidato, quindi sappiamo di incontrare una squadra forte, quindi andiamo lì con grandissimo rispetto, però sappiamo anche noi di essere una grande squadra e cercheremo di fare una grande partita in casa loro. Grazie a tutti! Grazie a tutti.